Il mio cane. Il mio cane Vento, uno Yorkshire, è morto a quattro anni e io l'ho fatto clonare. Ho pagato 40.000 dollari perché una società di Seul realizzasse una copia del mio adorato cane. Così Vento è stato clonato in doppio vento che il clone che nascerà tra qualche settimana. Ho fatto male? Commento. Hai fatto bene perché ti sei servita dei progressi che la scienza ha compiuto nel tuo tempo evolutivo. Infatti la clonazione non nega la divinità ma anzi la esalta perché dimostra che la vita si accende comunque e permette al nuovo essere che si incarna di svolgere l'evoluzione di cui ha bisogno nel piano fisico.